Buonasera a tutti ragazzi, allora buonasera a tutti, benvenuti in questo secondo video giornaliero, secondo video polemico, secondo video in cui analizzo un altro aspetto decisamente negativo legato all'ambiente giallorosso, legato alla squadra giallorossa. Un aspetto che secondo me è tra tutti forse il più grave e anche il più sottovalutato. Perché dico questo? Perché infatti molti pensano che le crisi derivino soprattutto dalla mancanza di valori tecnici, dalla mancanza di soldi, da diversi fattori, tranne quello che analizzerò in questo video o comunque se viene analizzato, viene analizzato solo in parte. Avete visto un po' l'immagine che ho messo come miniatura di questo video? Se non la vedete bene andate sul mio profilo Instagram gladiatoregiallorosso94 e la vedrete in prima pagina, cioè è l'ultima che ho messo in ordine di tempo ovviamente. Cosa mostra quest'immagine? Mostra uno screenshot del momento in cui Olsen era a terra dolorante negli ultimi minuti con tanto di aggressione, non ovviamente fisica, da parte dei giocatori del Cagliari e conseguente espulsione di Cepitelli e Sorn. Tra l'altro piccolo appunto su questa espulsione, molti mi stanno dicendo che quello è stato un favore di Mazzoleni alla Roma senza sapere minimamente cosa i giocatori abbiano effettivamente detto. Prima di dire che è stata una scelta sbagliata, assicuratevi di quello che hanno detto perché se hanno detto all'arbitro vaffanculo testa di cazzo non gli potete dire niente. Parlare con l'ignoranza è sempre sbagliato, quindi parlate se sapete effettivamente le cose. Chiuso questo discorso. Quella è la cosa che più mi ha stupito, io in diretta non me ne ero accorto, poi ho guardato su internet questa foto e mi ha lasciato a dir poco sconcertato. Come vedete ci sono tutti i giocatori del Cagliari in fila a protestare con l'arbitro e anche con il giocatore intimandogli appunto di alzarsi il prima possibile. Qual è il problema però? In questa immagine non c'è neanche l'ombra di uno, non dico di tutta la squadra, di un solo giocatore della Roma pronto a difendere il proprio portiere in difficoltà. Non c'è neanche uno che è andato lì a dare fastidio, comunque ad allontanare la rabbia dei giocatori del Cagliari e difendere il proprio portiere. Questo è qualcosa di inammissibile ed un qualcosa che nessuno ha veramente notato fino in fondo. La squadra in questo momento non è una squadra e questa è una cosa che va oltre i limiti tecnici, è una cosa che va oltre gli errori strettamente personali di un Fazio, di un Manolas e di chi vi pare. È un qualcosa di principio, un qualcosa che una squadra deve avere indipendentemente dal valore tecnico dei singoli giocatori. Deve essere un gruppo, deve essere squadra e in questo momento la Roma non lo è, perché ognuno fa il cazzo che gli pare e non pensa minimamente ad andare incontro ad un giocatore della propria squadra in difficoltà. Quest'immagine è emblematica della situazione attuale della Roma. E tra l'altro voglio fare un piccolo appunto per quelli che si ostinano a dire «Eh, ma Strotman e Nainggolan stanno facendo male con Marsiglia e Inter, quindi non è stato fatto questo grande errore». Il problema fondamentalmente si vede proprio in questo genere di situazioni. Io sono convinto che uno Strotman e una Nainggolan in una situazione del genere avrebbe preso a cazzotti i giocatori del Cagliari che sono andati incontro a Olsen intimandoli dei alzari. E per carità, adesso io non voglio dire questo per intimare la violenza, ma sarebbero andati a difendere un proprio giocatore. Ed è questo quello che manca principalmente alla squadra. Non solo gli errori tecnici, non solo gli errori individuali che ci sono, non solo gli errori della dirigenza che sono ancora più evidenti e neanche quelli del mister, perché tutti quanti sbagliano, sottolineo questo aspetto. Il problema è che i giocatori non si stimano, non è che non si stimano, non si aiutano gli uni con l'altro, perché manca, soprattutto con l'assenza di De Rossi in campo, un fottuto leader. Un giocatore che indipendentemente dal proprio valore tecnico faccia sentire il proprio fiato sul collo dei propri avversari. Io ricordo, e uno me l'ha scritto sotto nei commenti di quella foto, un momento durante Roma-Shaktar in cui un giocatore della Roma, non ricordo chi, aveva subito un fallo. I giocatori dello Shakhtar gli erano andati addosso perché giustamente dovevano recuperare il risultato. Tutti i giocatori della Roma sono andati in difesa del proprio giocatore, perché così bisogna fare. Bisogna stare vicino ai propri giocatori, ai propri compagni, invece di allontanarsi e avere paura. E questo purtroppo è un aspetto che si trasmette dall'allenatore alla squadra. La paura, la mancanza di coraggio, la mancanza di palle. Sono cose che purtroppo, volenti o nolenti, il mister non sta portando, o comunque sta portando in negativo. Non riesce appunto a trasmettere alla squadra il concetto di gruppo. E questo dipende non solo dal mister, ovviamente, ma anche dagli stessi giocatori. È un'immagine che per molti può passare inosservata, ma è qualcosa di gravissimo, di gravissimo. Un giocatore lasciato alla rabbia degli avversari. Ed era pure messo... Capite quello che mi dà fastidio? Olsen si era infortunato in quel momento. Non c'è stato uno che ha avuto il coraggio di andargli vicino e allontanare la rabbia degli giocatori avversari. È una vergogna questo. È qualcosa di vergognoso. E vi giuro, mi sta venendo un nervoso che neanche vi immaginate. Perché io posso parlare dell'aspetto dell'allenatore, posso parlare degli errori della dirigenza, posso parlare degli errori di qualsiasi modo. Ma non accetto una squadra che in campo non dimostra di essere unita. Una squadra che va avanti solo per individualità e quando c'è da difendere un proprio compagno si caga in mano. Ci siamo fatti prendere per il culo da una squadra tecnicamente, sottolineo tecnicamente, mediocre. E adesso venitemi a insultare, venitemi a dire quello che vi pare. Ma non accetto una squadra che non riesce a fare gruppo contro un avversario decisamente inferiore tecnicamente. Venitemi a dire adesso che il Cagliari è al livello della Roma e poi faremo un po' il confronto tra chi è stupido e chi no. Ma è una cosa appurata. Io non accetto che un giocatore si faccia prendere per il culo dai giocatori avversari. Senza avere la minima possibilità di avere un giocatore al fianco che lo difenda, che lo sostenga, che gli stia vicino. Ma come si fa? Ma come si fa veramente? Questo è quello che mi dico io. Non ho parole, veramente non ho parole. Io adesso devo chiudere il video perché se continuo così mi incazzo veramente e ulteriormente. Ma ragazzi, capite che il problema di base è grande. Di base è grande. Senza un leader in campo i giocatori fanno il cazzo che gli pare e ce ne fosse uno che dà una mano all'altro. No, sono buoni soltanto a lamentarsi e a fare i cazzatini da soli. Se a questo aggiungiamo gli errori tecnici, capite che la situazione non può rialzarsi da sola. Come fai? Cioè sbagli da solo. In più i giocatori non fanno squadra tra di loro. Che bisogna fare? Non ho parole. Un saluto dal vostro galeatore gioloso 94 no perché non me l'ho tolto. Ma comunque ci vedremo domani per un altro video sempre inerente alla crisi Roma. Penso che lo farò incentrato prevalentemente sull'operato di Monci. Perché come ho parlato di Di Francesco oggi e dei giocatori stasera voglio parlare anche di Monci perché ce ne sono tante cose da dire su di lui. Non aggiungo altro. Un saluto e sempre comunque Forza Roma. Forza Roma. Noi lo diciamo Forza Roma. Ed è ora che lo dimostriate anche voi in campo. Ciao ragazzi.